Giacomini, poi Beghelli e... Grazie, grazie. Molto breve, di solito io faccio i perventi crici, però stasera faccio un apprezzamento, lo voglio fare pubblicamente, è stato accennato sulla soluzione straordinaria di migliaia di ricercatori. Io lavoro un po' nell'ambiente, non riguarda solo l'università, riguarda anche gli eventi di ricerca pubblici, io lavoro per l'un di questi, che si è preso anche una bella fetta di questi posti, perché facciamo delle cose piuttosto interessanti, e quindi effettivamente si respira un'area fondamentalmente un po' diversa rispetto agli anni sconosci, in cui c'erano sempre blocchi della soluzione e blocchi della soluzione, è caldo che quello sia la strada giusta, il Renzi ha parlato anche, ha fatto questo annuncio su due miliardi e mezzo per la ricerca nei prossimi anni, adesso se rimane magari 30 secondi se vuoi dire magari due parole, lavorare un po' su questo investimento, comunque ancora lo sono dei prezzamenti.